Da oltre 40 anni, vestiamo i grandi campioni. 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 Come è stata la tua gara? Premessa, vorrei ringraziare tutta la squadra, i miei compagni, i direttori sportivi, Antonio Bevilacqua che ha sempre creduto in me, Rossella Di Leo, Gianluca Valotti che mi sono sempre vicini. Oggi la gara partivamo, penso, con i favori del pronostico perché avevamo la squadra più competitiva in gara. Io e Bocchiola ieri abbiamo corso nelle Marche, siamo risaliti apposta per correre qui oggi. Avevamo intenti bellicosi, diciamo. Volevamo, avevamo tanta fame di vittoria e oggi per fortuna è andata bene. In una prima fase di gara Perego ha attaccato e è rimasto fuori parecchi chilometri con il primo gruppetto di fuggitivi. Dopo, sui circuiti con il piccolo Stelvio, abbiamo attaccato più volte fino a quando è uscita la fuga decisiva, nella quale c'eravamo in un primo tempo io e Villella. Poi successivamente è rientrato Ciolanca e ha dato una grossa mano per conquistare questa vittoria che è di tutta la squadra, non è solamente mia.